Iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Tuscolana nella zona est di Roma si tratta di un percorso di circa due chilometri dal quadraro a piazza di Cinecittà. La nuova ciclabile unirà due fermate della metro A da Porta Furba a Suba Augusta. Il percorso si aggiungerà alle due piste esistenti di Viale Marco Fulvio Nobiliore e di Viale Palmiro Togliatti. A durata triennale il protocollo d'intesa firmato da Roma Capitale e il Ministero dell'istruzione. Vengono condivisi informazioni e dati sulle iscrizioni per migliorare l'offerta formativa e servizi educativi e scolastici previste in oltre modalità condivise per l'essenzione delle attività extrascolastiche. Roma Capitale rinnova l'adesione alla giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Tante le iniziative che vedranno coinvolti i municipi su prevenzione e cultura del rispetto come strumenti per arginare il fenomeno della violenza e del maltrattamento dei minori. L'11 ottobre sarà celebrata la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze ed esposto a Palazzo Senatori uno striscione simbolo dell'evento.